Un saluto dal Tg della mobilità causa smog oltre limiti è in atto un provvedimento d'emergenza del Campidoglio che prevede nella giornata odierna dalle 17.30 alle 20.30 e in quella di domani dalle 6.30 alle 9.30 all'interno della fascia verde lo stop ad auto benzina Euro 3, auto diesel Euro 4 e microcar diesel Euro 2. Sono previste delle deroghe, il provvedimento emergenziale si aggiunge a quelli permanenti previsti sempre nell'area della fascia verde. Il trasporto pubblico gratuito previsto per l'intera giornata di domani è anticipato da oggi a partire dalle 17.30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.